Acquistavano oggetti dal modico valore, poi pagavano con banconote di grosso taglio 500 o 200 euro ed infine cercavano di confondere il commerciante facendosi così pagare somme ben superiori a quelle in realtà dovute di resto. Si chiama Rande Moi o la truffa del resto, chi la mette in atto punta infatti proprio a creare un vorticoso giro di banconote tale da confondere chi maneggia i soldi ed assicurandosi così un guadagno sul momento. In Valtiberina adesso sono finiti nei guai tre cittadini rumeni pregiudicati che sono stati denunciati per aver messo a segno questo tipo di truffa. I malviventi infatti prima hanno tentato un colpo in un'area di servizio lungo la E45 e poi hanno colpito in un bar di Monterchi dove sono riusciti a guadagnare ben 500 euro e entrambi gli esercenti quando si sono resi conto di essere stati truffati hanno contattato il 112 ed i carabiniegi sono così riusciti ad individuare i tre malviventi nel comune di Arezzo. Addosso avevano un'ingente somma di denaro della quale non hanno saputo spiegare la provenienza. Per loro è scattata la denuncia, i soldi verranno invece restituiti all'esercente truffato.